bene signori e signori buonasera e benvenuti questa sera ad un appuntamento speciale quantomeno per la piattaforma nuovamente particolarmente speciale perché questa sera avremo il piacere di intervistare Isabella Schiavone una importante giornalista e anche scrittrice e proprio questa sera sarà in veste di scrittrice che andremo a fare due chiacchiere con la nostra amica Isabella Schiavone proprio perché parleremo del suo ultimo lavoro della sua ultima fatica il suo ultimo libro Fiori di Mango pertanto state con noi facciamo partire la sigla e dopo i 30 secondi canonici per stabilire il collegamento con la nostra amica ci avvieremo per la nostra cara lunghe chiacchierata di questa sera un'ora per stare in compagnia con Isabella Schiavone a tra poco state ancora con noi e tra 30 secondi in studio con Isabella Schiavone Grazie a tutti Ciao Isabella Buonasera Buonasera a tutti Poveretti un'ora insieme a me mamma mia Un'ora insieme a me Un'ora insieme a me è un privilegio Isabella ma che dici è bellissimo anzi poi sai per me al di là della piattaforma io sono particolarmente contento di vederti perché noi siamo amici da lunga data non siamo qui questa sera in veste di amici siamo qui in veste di professionisti Però non ti vede che siamo amici Ricordiamo Abbiamo messo in pandan la lunatica con il maglione Bravissima esatto e questo ci vuole perché noi poi siamo anche artisti e quindi il pandan ci sta noi siamo esperti disegno colore materia e ovviamente attraverso le tue abilità di quello che è la parola scritta e quindi questa veste tu stasera ci parlerai del tuo ultimo libro fiori di mango di una fatica di una fatica che ti è costata fatica io ho letto nella tua così postfazione Nel tuo ultimo capitolo quando avvi ringraziamenti è stata durissima e ringraziato soprattutto coloro che ti hanno non solo supportato ma soprattutto sopportato durante durante la redazione di questo volume che suppongo non sia stato semplice poi ovviamente ne parleremo approfondiremo noi vari aspetti di questo tuo ultimo lavoro bene Isabella allora fiori di mango intanto io volevo dare per i nostri amici un quadro un po' generale di quello che tu hai fatto nella tua carriera che insomma qualche annetto di carriera alle spalle ce le hai hai una certa età hai una certa età hai una certa età ma complimenti complimenti veramente no non è vero noi scherziamo quindi noi possiamo anche dire ai nostri spettatori che la nostra amicizia ci permette anche ovviamente di cui sono lusingato ci permette anche di essere così un po' come posso dire semplici no? di essere divertenti e di divertirci un po' allora io ti leggo la tua eh così la tua brevissima biografia che è in bandinella sul tuo libro dove appunto citi che eh Isabella Schiavone è una giornalista del TG1 il suo primo romanzo Luna Vulcano la storia edizioni è stato pubblicato nel duemiladiciassette ha ricevuto il premio un libro per il cinema ed è stata candidata al premio strega nel duemiladiciotto come giornalista ha vinto tra gli altri il premio Lucchetto Orvatin con una inchiesta sulla droga scampia il diversity media awards per un servizio sull'omosessualità e il premio Amato Lamberti per la responsabilità sociale nel giornalismo ha insegnato teorie tecniche del linguaggio televisivo nel master in giornalismo e comunicazione pubblica dell'università degli studi di Tor Vergata da grande dici che vorresti fare quello che vorrei fare anch'io cioè vivere in un eremo scrivere e parlare in francese con i gatti allora questo è bellissimo intanto perché ti dico la verità anch'io vorrei ho studiato francese parlo la lingua francese e pertanto mi vorrei dilettare quando sarò un pochino più ag nel 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 trovare sintonia ed empatia con con i gatti ma anche con gli alberi con la natura con gli uccellini no tornare un po' a quello che fu no il cantico delle creature di San Francesco proprio perché un po' di isolamento dopo tutto questo bailam della vita quotidiana farebbe bene un po' non soltanto a noi ma forse anche a tanti altri perché è importante anche quello stare un po' bene con noi stessi Isabella quest'ultima fatica Fiore di Marco perché come ti è uscito fuori questa idea? Da che cosa? perché in realtà non lo so e scrivere è un'esigenza è un'esigenza che è naturale quindi era uscito in una vulcano tre anni fa e io avevo già iniziato a scrivere un'altra cosa d'estate ancora mi ricordo peraltro Fiore di Mango è stato scritto in diverse location un po' a Roma un po' a Civita di Bagno Reggio nella città che muore dove sono stata ospite del comune in un alloggio in un alloggio meraviglioso una casa di artisti con vista sui calanchi dove potevo isolarmi da una parte e concentrarmi nella scrittura e dall'altra potevo essere visibile dall'esterno perché scrivevo in una sala dove c'era una vetrata e tutte le persone i visitatori i turisti potevano guardare appunto l'artista in quel caso ero io all'opera ed è stata una bellissima esperienza e poi è stato scritto anche a Dischia dove ero per un seminario vacanza con il gruppo di Tai Chi Chuan che avevo appena cominciato a frequentare e nella seconda parte della giornata eravamo liberi di fare quello che volevamo e io avevo un meraviglioso panorama sui vigneti e quindi scrivevo questo Fiore di Mango quindi in realtà ha preso spunto un po' da diversi anche contesti quindi c'è un po' ci sono un po' di passeggiate con un gatto con cui avevo fatto amichizia a Dischia ci sono insomma anche dei piccoli aneddoti che avevo vissuto personalmente buttati un po' lì come degli indizi diciamo in queste vacanze e perché l'ho scritto non te lo so dire francamente io non so perché si scrivano i libri io credo che i libri si scrivano da soli è uscito da sé, è uscito da sé come esatto avevano voglia di uscire fuori questi personaggi e di farsi conoscere, di far parlare un po' di loro e di fare amicizia ma io ho letto ovviamente questo libro anche perché leggo le tue cose quindi vedo i tuoi lavori, ti conosco sotto la parte professionale, so che sei estremamente attenta e estremamente sensibile devo dire che la tua caratteristica è anche quella di entrare in empatia con i servizi che fai come giornalista che si occupa del sociale nella tua redazione del Tg1 e dove appunto hai avuto anche dei riconoscimenti importanti a livello nazionale ma qual è la differenza tra la Isabella scrittrice e la Isabella giornalista? sono due pianeti a parte, due persone completamente diverse, si potrebbe dire che io sia schizofrenica perché a parte che anche nella mia stessa professione insomma un po' in base ai ruoli che ricopri, tiri fuori una parte del tuo carattere e della tua personalità però in linea generale Isabella giornalista è pronta in prima linea, abnegazione a mille, stress a mille Isabella scrittrice è il suo esatto posto e quindi silenzio, calma, pazienza, tranquillità, serenità, isolamento ecco, mentre il giornalismo ovviamente ti porta sempre a stare in mezzo a tantissime persone, tante esperienze anche semplicemente le persone, i colleghi della redazione perché attualmente non vado più molto in giro e sono più impegnata appunto nel nuovo ruolo che dicevi di caposervizio della redazione società del Tg1 e quindi sono persone che non si conoscono, mi senti ancora? sì sì, ti sento, ti vedo fermo con lo schermo ma ti sento ci siamo? sì, sì, ti sento, ti sento aiuto mi senti Isabella? pronto? pronto? sì, adesso ti sento perfetto adesso ti sento, sì eccoci, io ti sento, ti ho sempre sentita benissimo, ok mi senti Isabella? io ti sento, sì sì ecco, stavi parlando quindi di due aspetti della personalità? dicevo appunto che sono votata completamente e che questi, questo praticamente mi senti Isabella perché ti vedo ferma sullo schermo no, adesso ti ho persa ci sei? adesso io ti sento sì 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 sì, si è bloccato un attimo lo schermo ti vedevo ferma e non ti sentivo mi sento? ecco, adesso ti vedo ma è benissimo, tanto questi sono i mezzi che oggi disponiamo quindi non è colpa di nessuno è la linea che va e che viene pertanto ci possono essere di questi problemi e hai parlato appunto di questi tuoi aspetti della tua personalità che poi esprimono un carattere per certi versi riflessivo pacato nel momento in cui scrivi ti guardi intorno e rifletti sulle esperienze che probabilmente attingi anche dalla tua professione ma che poi comunque soprattutto sono quelli che caratterizzano di più la tua intimità, il tuo inconscio quello che praticamente riesci ad esprimere quando stai bene con te stessa e poi c'è la Isabella esuberante la professionista che si muove all'interno della società per captare quei segnali che servono per farne coronaca e farne elemento di notizia da divulgare alle persone, agli utenti e quanto c'è di tuo nei due personaggi del libro in gloria e in stella una dal carattere introverso assolutamente rigorosa con se stessa purtroppo non ti sento più mi senti? mi senti Isabella? pronto? io ti sento io ti sento e ti vedo mi dice che ci sono dei problemi il computer io ti vedo e ti sento benissimo andiamo avanti sperando che mi sentiate io ti vedo e ti sento non vedo più niente io ti vedo e anche Vittorio non sento più nulla non so se invece tu mi senti? sì sì assolutamente io ti vedo e ti sento assolutamente allora mi stavi chiedendo che cosa c'era di me e nei due personaggi principali io credo che ci sia sempre un po' dello scrittore in tutti i personaggi che lo scrittore porta mette sul libro porta in scena diciamo così anche se letterariamente e ovviamente diciamo Stella che è la protagonista del romanzo per molte cose è molto diversa da me perché è una ragazza innanzitutto più giovane ma poi molto ha un rapporto molto magra i limiti dell'anoressia quindi ha un rapporto molto complicato con il cibo io no nel senso che ho un rapporto fin troppo buono con il cibo è orfana è una persona molto molto sola molto solitaria molto chiusa d'improversa però è anche una persona molto forte e molto profonda e questo sicuramente mi appartiene è una persona che verrà folgorata dall'Africa e sicuramente qui c'è molto di me sì perché diciamolo perché diciamolo questo romanzo si sviluppa si trova la storia è ambientata in questo straordinario resort in questa natura selvaggia nel Kenya e quindi qual è l'ambientazione? ce la vuoi descrivere un attimo è quello che poi tu ti soffermi poi molto anche nel libro quando racconti quanto la vegetazione e quanto e quanto l'ambiente influisca poi su questi due personaggi sì gli ambienti sono due prevalentemente uno è il Kenya la costa orientale del Kenya e poi c'è l'Italia con Roma e ho voluto raccontare molte dimensioni del Kenya da quella naturalistica perché io credo che sia una delle più grandi attrattive di questa terra con questa natura lussureggiante straripante strabordante che sobrasta l'uomo in qualche modo e nel quale però l'uomo riesce non solo a riconoscersi ma anche in qualche modo a ritrovarsi come in un habitat naturale e quindi ho voluto anche riportare non solo i colori ma anche i sapori dell'Africa di questa terra infatti nel libro ci sono molte ricette africane perché c'è questa nonna Edith che è la la matrona del romanzo una donna in realtà di origine inglese ma molto accogliente che accoglierà in casa non soltanto Gloria e Stella ma anche il cugino di una delle due di Gloria con anche i suoi figli quindi una famiglia molto allargata e molto accogliente che prepara dei manicaretti molto interessanti e peraltro li devi adattare alle esigenze di una stella che ha sicuramente qualche difficoltà nell'alimentazione e aggravata se così si può dire da una scelta alimentare che peraltro negli ultimi anni va anche piuttosto di moda una scelta sicuramente etica e molto interessante come quella del veganismo però insomma essere vegani e anoressici in Africa è un po' un salto ad ostacoli ad ogni pasto tanto che tanto che Stella si nutre prevalentemente di mango di mango in tutte le sue varianti e quindi la frutta a colazione poi il centrifugato poi la macedonia e poi insomma mango in tutte le sue declinazioni mentre Gloria ha un carattere diverso da quello di Stella ciò che accomuna queste due amiche che si conoscono fin dai tempi della scuola di un tolocato liceo della capitale è una delusione sentimentale entrambe si stanno ognuno a modo proprio separando pur essendo giovani molto giovani ma questi sono anche i tempi di oggi i tempi attuali ci si separa molto giovani appunto e si hanno tante famiglie allargate e Gloria però affronta tutto questo con uno spirito un po' diverso perché in realtà lei sta scoprendo che il suo matrimonio si fonda su delle basi inaspettate sta scoprendo un'altra identità della persona che è accanto lo sta forse conoscendo veramente per quello che è nel momento in cui decide di allontanarsi e va in Africa perché ha delle radici africane il papà è africano in realtà non è proprio di origine africana ma è cresciuto in Africa e quindi lei decide di andare alla scoperta della sua famiglia d'origine questa nonna lei non l'ha mai conosciuta non l'ha mai incontrata gli stessi zii i fratelli del padre non l'ha mai incontrato perché d'altronde il papà stesso si è allontanato molto giovane anche dei distilli familiari lo hanno tenuto lontano e quindi c'è anche questa ricostruzione della famiglia è molto centrale la famiglia nel romanzo ha un ruolo molto importante è quasi un personaggio essa stessa e anche qui diciamo io trovo che i tempi moderni abbiano un po' tralasciato abbiano un po' messo da parte l'idea di famiglia idea di famiglia che può essere definita in qualsiasi modo non necessariamente la famiglia di tipo tradizionale si può essere famiglia anche con un animale domestico si può essere famiglia tra due persone dello stesso per me la famiglia vuol dire tanto vuol dire tutto e questa infatti è una famiglia allargata dove vengono un pochino aperte le braccia a tutti quanti anche alle persone che magari stanno vivendo un momento un po' più difficile io so io so che tu hai avuto esperienza ovviamente con l'Africa ci sei andata tantissime volte e ti ci rechi con una certa frequenza perché senti un po' questo continente come poi tutti coloro che si regolano in questo continente come un ritorno forse alle nostre radici in effetti si dice che l'uomo arrivi dal continente africano e che da lì poi tutte le placche terrestri si siano staccate e hanno costituito i vari continenti o comunque qualcosa di molto simile cosa c'è di te in Africa? ma io amo l'Africa per tante ragioni sicuramente la principale sono ragioni di tipo affettivo in Africa ho degli affetti perché mi sono occupata tanto di volontariato in Africa con dei bambini orfani oppure comunque in condizioni di difficoltà oppure malati e quindi mi sono molto affezionata e molto legata a loro ma anche ai luoghi dell'Africa perché come tu hai detto l'Africa è un po' un posto nel quale ci si ritrova soprattutto io credo noi siamo talmente abituati a dei ritmi così stressanti così fagocitanti che cambiare passo cambiare lingua cambiare cibo cambiare odori rappresenta davvero un viaggio in sé e l'Africa è un viaggio nel viaggio perché ovviamente ci trova a contatto con una mentalità diversa con situazioni anche sociali diverse il Kenya è un posto dove spesso ci si reca per andare in vacanza perché ha dei bellissimi resort appunto si fanno dei bellissimi safari però c'è anche un'altra faccia del Kenya che è appunto quella dei villaggi poveri quella degli orfanotrofi e io sono molto legata a quest'altra faccia del Kenya e una parte di questa dimensione la racconto anche nel romanzo tu che sei giornalista chiaramente la domanda mi corre d'oblido tu che vai spesso in Africa e come hai detto ti senti anche effettivamente coinvolta da rapporti personali che hai stabilito giù in Africa quando parli anche nel libro stesso di questi aspetti di codici condivisi acquisiti dalla cultura di massa è chiaro che sono estremamente diversi siamo forse agli antipodi tra il continente africano e il continente europeo tu dove ti senti come ti senti più vicino a cosa ti senti più vicino a quei codici oppure ai codici nostri mi piace scoprire un po' Isabella non soltanto scrittrice ma anche intima diciamo la verità è che io ho un'anarchia interiore Vittorio e quindi mi sento libera ovunque certo noto osservo quello che ci circonda quindi sai ci sono dei momenti in cui vanno di moda dei vocaboli e tutti utilizziamo quei vocaboli per esempio in questo momento tra i giornalisti va molto di moda il vocabolo declinare io lo sento continuamente questo declinare ogni volta che vorrei dire declinare ci penso e dico no adesso non lo devo dire declinare una volta che ti ricordi contaminazione no? contaminazione tutti eravamo tutti contaminati c'è un bellissimo un bellissimo una bellissima commedia come un gatto intangenziale che io vedo come un mantra perché mi fa tanto ma tanto ridere dove Paola Cortellesi parla di questa contaminazione meglio di come potrebbe farlo chiunque al mondo con una una spontaneità e una semplicità meravigliosa comunque ovviamente sai le mode esistono non soltanto in occidente esistono dappertutto esistono non solo in Europa quindi magari lì i codici sono altri e quindi essendo una società differente che non vivo quotidianamente posso anche coglierli di meno probabilmente se ci passassi più tempo se ci trascorresti più tempo riuscirei a captarli a captarli meglio però insomma lì c'è più che altro magari l'ostentazione del bene materiale quindi non so il possesso della televisione anche per una famiglia che vive in un villaggio per esempio magari proprio in un villaggio con le capanne di fango no però in un villaggio medio ecco già lo status symbol del televisore è una cosa importante io in realtà mi sento bene dappertutto sono sincera perché credo che io credo che se uno sta bene con se stesso poi alla fine sta bene un po' dappertutto e quindi mi diverto ad osservare ad osservare a volte con spirito critico a volte con spirito ironico a volte semplicemente con spirito mi guardo intorno osservo gli altri osservo anche me stessa perché poi è divertente anche osservare se stessi diciamo prima esatto uscire fuori da se stessi e guardarsi e dirsi ma come come reagisco in quella situazione come rispondo a quell'altra situazione e può essere divertente può essere un gioco divertente Isabella con una giornalista che fa televisione lo fa veramente ad altissimo livello come lo fai tu Stella non guardava la televisione a Stella piaceva leggere a Stella piaceva piace la scrittura quindi questa parte intima di Stella l'hai descritta e la descrivi molto bene devo dire veramente con grande capacità di far arrivare veramente le sensazioni che uno vive nel momento in cui si ritrova in un ideale qualche volta nostalgico di sofferenza e altre volte invece di grande empatia con tutto ciò che lo circonda idealizzando entrambi gli stati d'animo sia quelli negativo chiamiamoli così per intenderci che quelli in positivo questa persona che praticamente scrive e legge ascolta musica e non guarda la televisione io la adoro la donna ma sai Vittorio io credo che la lettura l'ascolto della musica l'arte in generale che tu conosci bene sia un viaggio essa stessa a me capita di tornare a casa con l'ansia di riaprire il libro che sto leggendo e catapultarmi in un'altra epoca remota in qualche secolo addietro materializzando i personaggi e enfatizzando con i personaggi che sto scoprendo conoscendo immergersi nella lettura come immergersi nell'arte in generale è un viaggio parallelo rispetto rispetto alla realtà e quindi Stella si nutre di questo non perché non si è interessata a ciò che la circonda perché naturalmente la conoscenza di quello che accade nel mondo è informata però come dire una volta che ha avuto le notizie di ciò che è accaduto nel mondo una volta al giorno si accontenta è sufficiente e preferisce trascorrere il tempo in maniera diversa piuttosto che trascorrere una serata davanti alla televisione e preferisce trascorrere una serata con un libro oppure scrivendo e Lorenzo parliamo un po' di Lorenzo perché Lorenzo è un personaggio che anche lui fa parte del mondo dello spettacolo del giornalismo e della televisione e quindi anche qui vediamo un'altra figura che un po' si avvicina a diciamo a quel circuito nel quale tu passi buona parte del tuo quotidiano è una persona che per certi versi lo descrivi e lo dici molto bene una maschera lui veste una maschera è un personaggio che si scopre poi cammin facendo intimo profondo non soltanto superficialità ed esteriorità ma diversamente rispetto alla maschera che veste quanto c'è nella società oggi di questa maschera che tutti noi per certi versi forse siamo anche un po' obbligati a vestire e quanto c'è invece in questo profondo profonda ricerca intima che tu hai sviluppato su questo personaggio ma io credo che ci sia moltissimo Vittorio di queste maschere a volte non ne siamo neanche consapevoli perché assorbiamo talmente tanto dei modelli culturali sociali nel quotidiano che non ci rendiamo neanche conto a chi vogliamo assomigliare che cosa facciamo per assomigliare a quel prototipo a quello stereotipo a quel modello Lorenzo Lorenzo e Stella sono lo yin e lo yang è esattamente l'opposto di Stella lui vive ammiccando davanti alla telecamera poi lui è un giornalista televisivo in questo caso nel suo caso essendo un conduttore di un programma sportivo il confine tra giornalismo e spettacolo come tu hai detto prima è molto labile e quindi c'è una parte esteriore di sé che lui porta avanti continuamente ma perché gli è stato insegnato a fare così lui è un po' figlio della cultura degli anni 80 che è una cultura molto basata sull'apparire e soprattutto anche di un certo tipo di televisione che si cominciava a sviluppare proprio in quegli anni e quindi Lorenzo sembra inizialmente un personaggio innamorato di sé stesso un narciso totale poi in realtà svela un animo anche lui profondo anche lui con delle cicatrici che lo riportano al passato delle sofferenze attuali anche qui abbiamo un matrimonio che si sta sgretolando completamente comunque è brillante in carriera ha successo la moglie ugualmente una bella donna con dei figli sembrava una famiglia perfetta la classica e cosiddetta famiglia del mulino bianco in realtà così perfetta non è e anche lui viene completamente spiattato dal cambiamento che subisce la sua vita privata e però si mette in discussione con tutti i suoi limiti in realtà si mette in discussione e fa anche un percorso per capire per analizzare quello che sta vivendo io mi sono soffermato anche su un altro concetto leggendo il tuo libro veramente di concetti ce ne sono molti perché come ti dicevo prima del collegamento ho trovato questo libro proprio come se fosse un'ispirazione artistica pittorica quasi come se fosse semiotico nel senso che è un libro che per certi versi ricalca proprio le particolarità del segno del colore della materia perché descrivi i fatti quindi con le parole con le tue frasi in una maniera così descrittiva così analitica ma così anche semplice e leggera che tu prendi praticamente il lettore lo porti dentro alla scena conducendolo per mano e questo è veramente molto bello è una dote che ti riconosco io ma non solo io ovviamente anche i premi che hai ricevuto e anche le nomination che hai ricevuto nelle vari concorsi importanti nazionali ti conferiscono queste peculiarità e a pagina 34 io mi ero fatto una notazione e Gloria non soppesava la vita giorno per giorno lei non pensava a quello che facesse giorno per giorno ma la proiettava sempre verso il futuro e quindi questa frase ovviamente contestualizzata all'interno di una narrazione più specifica e quindi ad un fatto che tu descrivi analiticamente nel capitolo io l'ho un po' estrapolata come se fosse un piccolo cameo su cui riflettere vale la pena vivere senza condurre la quotidianità con pesantezza con attenzione spasmodica ai fatti del giorno e pensare al futuro oppure costruirlo giorno per giorno attraverso le nostre esperienze dedicandosi anche all'intimo alla profondità di noi stessi per cercare di dare sempre il meglio di noi è chiaro che la domanda sarebbe essere scontata la soluzione B però quanto noi riusciamo a liberarci dai condizionamenti quotidiani per essere poi liberi ed esprimere meglio quello che siamo poi nel profondo noi stessi io credo che la saggezza ci insegni che vivere nel qui ed ora e costruirsi nel qui ed ora oltre che goderlo sia la strada maestra quanto poi questo sia effettivamente realizzabile non lo so perché molti di noi vivono nel passato e molti di noi invece al contrario vivono appunto come il personaggio gloria proiettandosi nel futuro in realtà dovremmo vivere il presente dovremmo essere presenti al presente e quindi capire dove ci troviamo capire che cosa stiamo facendo e capire che direzione stiamo prendendo anche perché in realtà se ci riflettiamo il futuro è soltanto una proiezione è una proiezione mentale perché il futuro una volta che arriverà sarà il successo presente no certo certo e quindi quanto poi riguardo la tua domanda e cioè quanto sia facile o possibile vivere vivere nel presente lontani dai condizionamenti sicuramente non è facile però in realtà io credo che questa pandemia ci sta insegnando tanto da questo punto di vista perché siamo tanto costretti nel nostro isolamento comunque costretti nei nostri movimenti nella nostra di fatto libertà giocoforza che ci obbliga a stare nel presente perché non si possono fare progetti non possiamo pianificare neppure un weekend e quindi molto spesso trascorriamo tanto tempo con noi stessi senza fare niente di particolare e io credo che questo in realtà sia un tempo prezioso perché troppo spesso e non ce ne rendiamo neanche conto riempiamo il nostro tempo di tante cose per non sentirci per non ascoltarci e per non capire che cosa ci sta accadendo dove stiamo andando che cosa desideriamo quali sono i nostri bisogni i bisogni di chi abbiamo accanto e in realtà in questo senso fermarsi cioè quello che ci impone la pandemia quello che è anche detta l'Africa perché ha naturalmente dei ritmi ben diversi da quelli a quali noi siamo abituati ma io credo che possiamo farne buon uso perché ne abbiamo molto bisogno quando parli di un altro personaggio che appunto già abbiamo citato più volte Gloria tu fai un riferimento anche qui concettuale cioè di questo personaggio esuberante estroverso contrario diversamente contrario cioè diversamente si comporta in maniera diversa rispetto a quelle che sono le caratteristiche invece dell'altro personaggio di Stella completamente all'opposto ma che soffre di gravi solitudini dico gravi tra virgolette nel senso che viene per certi versi questa sua esuberanza questa sua grande compartecipazione fa compartecipare gli altri alle emozioni che vive a questa sorpresa che ha verso il bello della vita e lo manifesta in maniera così diretta e quindi vive l'emozione la fa vivere agli altri per certi versi addirittura la isola in certi momenti lei si sente sola e addirittura piange consolata da Stella che vive invece una dimensione completamente opposta rispetto a quella della Gloria quindi si comporta e si atteggia proprio per personalità diverse in una fase diciamo più intima della propria apprendimento e tutto quello che le succede intorno ecco non trovi strano che chi si manifesta in maniera spontanea chi è emozionato ed emozionante potenzialmente anche per gli altri sugli accadimenti della vita sulle bellezze del mondo poi si trovi in solitudine perché diventa quasi anche imbarazzante per gli altri se si esprime per quello che veramente sente senza pudori ma diciamo che dipende nel senso che dipende dall'ambiente nel quale nel quale si è inseriti diciamo forse probabilmente sì probabilmente mediamente è piuttosto strano nel loro caso loro sono cresciute appunto come raccontavo prima in un contesto molto elitario della capitale nel quale i codici anche espressivi e comunicativi erano di un certo tipo e una delle due aveva dei grossi problemi a livello familiare ai tempi della scuola e quindi molto spesso esplodeva appunto in delle crisi di pianto durante la ricreazione infatti loro fanno amicizia proprio così perché l'altra non è indifferente a questi stralipamenti emotivi a queste manifestazioni emotive le va vicino le sta accanto ci parla ci chiacchiera e così loro diventano amiche questa amicizia la portano avanti nel tempo e in realtà io trovo che sia una azione di estremo coraggio quella delle due protagoniste perché riuscire ad essere se stessi anche esprimendo le proprie emozioni anche loro quando sono negative senza vergognarsene e tirandole fuori io credo che sia in realtà un atteggiamento di forza e non di deprima e per quanto riguarda la solitudine diciamo che Stella si crogiola un po' in realtà nella sua solitudine diciamola tutta perché a lei mancano i genitori che purtroppo ha perduto ma in realtà le piace star da sola le mancano gli effetti importanti ecco quello sicuramente però è anche altezzosa è anche snob è anche insomma un po' di puzza sott'annato ce l'ha diciamolo e quindi è lei stessa che preferisce è molto selettiva ecco e quindi è lei stessa che preferisce appunto selezionare le compagnie piuttosto che mischiarsi a delle compagnie tanto per far gruppo per far numero che però non le danno nulla ho qui un contributo di Stefano Pietta ciao Stefano che ti fa questa domanda è possibile fare una domanda Isabella certamente chiunque volesse lo può fare in diretta senza alcun problema sulla sezione commenti della piattaforma nuovamente se tu Isabella dovessi definire il tuo libro con un colore che colore sarebbe e perché e ti ringrazio ciao Stefano innanzitutto e dunque che bella domanda sarebbero tanti colori il primo che mi è venuto in mente francamente il blu il colore del cielo però in realtà i colori sono tanti c'è il giallo che è il colore del sole un mercoledaleno di colori ecco poi ci sono anche dei colori cupi in questo libro quindi ci sono molte varianti di colori sicuramente è un libro colorato ecco questo è vero è un libro anche saporito e colorato è un libro fauve quindi sei un po' sei il Gauguin della della scrittura beh non a caso la copertina ecco eccola qua eccola qui eccola qua magari fossi il Gauguin della scrittura mi piacerebbe e quindi proprio per questo noi facciamo vedere anche ecco qui il libro Fiore di Mango di Isabella Schiavone la staria edizioni e Isabella Solgenizzi diceva che gli unici sostituti di un'esperienza che non abbiamo mai vissuto è la letteratura e l'arte quanto c'è di vero in questa sua citazione 100% 100% la letteratura ci dà la possibilità di vivere tutto ciò che non abbiamo vissuto tutto ciò che avremmo voluto vivere è uno slated doors se non avessi fatto quello avessi fatto con l'altro oggi la mia vita cosa sarebbe ecco e sicuramente ci sarà un personaggio che descrive la vita che sarebbe potuta essere oppure ce ne sono anche dieci di personaggi che descrivono questo la letteratura è mille infinite possibilità di vite diverse da vivere faccio una domanda che avevo fatto anche ad un'altra scrittrice che ha presentato un libro drammatico ma che l'ha toccato con grande leggerezza il manuale del femicidio l'abbiamo presentata Tatiana Natascia Ronchetti l'ho presentata all'inizio del mese di dicembre e gli dissi si posi proprio questa domanda la letteratura è una difesa contro le offese della vita secondo te che belle parole Vittorio si vede proprio che sei un uomo che non è mia ma accogli comunque delle sfumature in ogni cosa sì lo è assolutamente la letteratura la nobilità nobilità tutto nobilità la persona che ne fluisce nobilità la persona che la compone nobilità le persone che ascoltano parlare di lei ma questa è un po' la funzione dell'arte in generale e io credo che ci sia tanto bisogno anzi complimenti a voi per questa bella pagina che si occupa di tante cose interessanti di tanti argomenti interessanti abbiamo bisogno di essere stimolati di essere di riflettere di evadere e di creare alla fine la creazione mentale culturale è quella che ci porterà appunto ad un mondo diverso nuovo speriamo migliore abbiamo un altro contributo di una nostra cara amica che è Cecilia Casadei tra l'altro una importante critica d'arte una cara amica lo leggiamo in diretta Cecilia ciao intanto e grazie del tuo contributo straordinaria Isabella libera ovunque scritto in grassetto qualcosa che suona come un invito ad attraversare i confini anche della mente le sue parole come metafora di un viaggio nel profondo delle cose e ritorno citando versi famosi in una dimensione di profondità e leggerezza grazie ad Isabella grazie a Vittorio grazie a te Cecilia del tuo contributo grazie mi ha veramente molto 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 piacere Isabella l'arte secondo te che cos'è? l'arte veramente questa capacità di mettere insieme con la parte tecnica con le conoscenze e quindi arrivare ad un prodotto finito che dia emozione detta proprio in maniera brutale così da straccio la parte tecnica secondo me non si può apprendere cioè l'arte è fatta si esterna attraverso un talento e quel talento secondo me o ce l'hai o non ce l'hai c'è poco da fare poi l'arte trasmette trasmette i sentimenti trasmette le emozioni trasmette i valori trasmette delle visioni trasmette anche una cultura la cultura di un tempo che si sta vivendo quindi l'arte può raccontare metaforicamente o i dilemmi di un'epoca o le storture di un'epoca quindi può essere di denuncia può essere invece semplicemente di bellezza per farci vedere per farci arricchire lo sguardo l'animo i nostri senti l'arte ha un ruolo ha un ruolo fondamentale e insomma come può non saperlo un paese come l'Italia che sull'arte si è fondato e basato per secoli e secoli e probabilmente oggi trascuriamo un pochino non noi ovviamente però l'arte è considerata ecco se pensiamo a quante figure legate a campi dell'arte vengono considerati insomma non come dovrebbero lo stesso momento che stiamo vivendo insomma quanto l'arte potrebbe ci può aiutare in un momento come questo e quanto gli artisti purtroppo sono insomma non voglio dire abbandonati a loro stessi perché non lo sono completamente però stanno vivendo delle grosse difficoltà in questo momento ecco quindi l'arte andrebbe probabilmente tutelata un pochino di più tu con questo libro sei riuscito a rivelare forse qualcosa che la realtà occura nel senso se riesci attraverso il tuo essere capace a scrivere ed avere anche il coraggio di fare un libro su una storia che ovviamente parla anche di te del tuo intimo attraverso i personaggi riesci a mettere alla luce qualcosa che poi è latente e nascosto dentro di noi secondo te io questo non lo so Vittorio perché non credo che dipenda soltanto da me ma che dipende anche da chi legge il libro e quindi se c'è un incontro in questo senso tra ciò che io desidero comunicare e trasmettere e dall'altra parte un'esigenza di accogliere questo anche questi stimoli questi input che vengono dati nel libro perché vengono proposti anche delle strade per arricchire le nostre vite e poi bisogna vedere dall'altra parte quanto ci sia l'intenzione di sposare o di vedere e di osservare più in profondità quello che ho scritto Nel tuo lavoro nel sociale perché nel sociale Isabella? Perché questa scelta così settoriale e proprio mirata nel sociale? Allora io non mi sono sempre occupata di sociale all'inizio della mia carriera mi sono occupata molto di inchieste sì c'era molto sociale anche lì però non era esclusivamente quello mi sono occupata molto di cronaca di attualità e di ambiente negli ultimi anni ho deciso di occuparmi in maniera prevalente di temi che sentivo urgenti di persone che vedevo sotto rappresentate e quindi ho voluto attraverso il mio lavoro rendermi minimamente portavoce di queste esigenze di queste realtà delle quali secondo me tutta la comunità dovrebbe farsi carico e non soltanto la famiglia il nucleo che vive quel tipo di difficoltà penso per esempio appunto alla disabilità sono stata molto vicino a tante persone che hanno avuto tanti problemi in questo senso non solo raccontando le loro storie ma poi anche nella vita di tutti i giorni tante persone sono rimaste insomma gli sono vicine appunto quindi sono nella mia vita diciamo così perché trovo indecente e indegno che ci siano tutt'oggi delle famiglie che hanno all'interno dei gravi casi di disabilità che non sono assistite nel modo doveroso in cui insomma la società dovrebbe assisterle parlo complessivamente insomma tra virgolette e quindi e quindi quindi niente ho deciso di di occuparmi di questo settore anche è una spinta che in realtà io poi ho sempre sentito innanzitutto poi sono laureata in sociologia insomma quindi non è che vado poi tanto lontana dai richiami anche del passato poi ho sempre svolto attività di volontariato quindi sono sempre stata molto vicina umanamente a queste situazioni poi devo dire Vittorio perché non è che voglio passare come la buona samaritana io non sono stricamente una buona samaritana sono una persona normalissima come tante però io trovo che ci siano tanti stimoli e tante cose interessanti da imparare dalle anche dalle persone con disabilità da persone che parlano in qualche modo è come parlare un'altra lingua no? per tanti versi poi insomma dipende anche da che tipo di disabilità parliamo mi ricordo un servizio su delle persone adulte malate di SLA che scrivono un giornalino molto molto interessante molto bello con lo sguardo attraverso una tecnologia molto avanzata e comunicando con queste persone per esempio io ho imparato tantissimo una profondità queste persone avevano un sguardo su tutti quelli che li circondavano potevano fare di psicoterapeuti perché si rendevano conto di tante cose che che magari noi presi da appunto questo stress in questo vortice nel quale siamo coinvolti quotidianamente non facciamo caso e infatti gli articoli scritti da queste persone sono stati di grande interesse e dei grandi spunti di riflessione per me bello bello complimenti Isabella complimenti ascolta ci sono arrivati tanti messaggi che io però vorrei così adesso velocemente così andare a scorrere perché sono tanti di saluto e quindi è giusto contraccambiare esatto anche perché Isabella siamo arrivati quasi agli sgoccioli sono 48 minuti 30 secondi è volatissima veramente questa nostra questa nostra oretta di intervista allora Simone che ci saluta ciao Simone grazie Simone Caligola fa parte della piattaforma e ci segue grazie ciao Simone abbiamo anche Francesco Schiavo un altro artista bravissimo che un giorno ti farò conoscere questo signore veramente capacissimo e un giorno anche con lui faremo una diretta quindi lo conoscerai in quella circostanza ciao Francesco e grazie tante della tua della tua partecipazione salutiamo anche Pierpaolo Sant'Agata un personaggio che di cultura ne mastica lo conosco personalmente grazie molte del tuo contributo della tua presenza ciao e a presto poi vedo Michele Guandalini ciao Michele grande psicoterapeuta psicologo ciao Michele che tu conosci andiamo avanti Sergio Di Stefano ciao Vittorio da Di Stefano della Sicilia ciao Sergio ciao Marco Marinelli Marco Marinelli buonasera a tutti grande Vittorio ok grazie io non non sono nessuno eh Lucia ciao Lucia ciao Lucia ciao Lucia ciao aspetto un attimo scorriamo ancora abbiamo Alessandra Ceccoli ciao Alessandra buonasera ciao anche a te eccola guarda chi c'è la nostra Vanna hai visto anche questa sera ti ho onorato la nostra Vanna bellissima Vanna ciao carissima artista materica e tu a proposito Isabella ti senti più informale o figurativa ma più figurativa probabilmente adesso la adesso è più figurativa forse prima un po' informale lo eri o no? sì sì Graziella Cremonini ciao Graziella ciao Graziella Flavia ciao Flavia ciao Isabella ciao Rosalba Di Lascio ciao Rosalba grazie Santa D'Azero ciao Santa grazie del tuo collegamento buonasera a te Lucrezia Zancanaro lei è un'autrice della nostra piattaforma la salutiamo caramente è una personaggio veramente particolare bravissima scrive scrive delle cose molto molto profonde molto intelligenti ciao Lucrezia grazie Stefano Pietta che ci saluta e prima grazie grazie del tuo intervento e del tuo contributo Tiziana Gualandi eccola qua un artista anche lei ciao Tiziana vediamo ancora la nostra Vanna bravissimo Vittorio grazie Vanna se lo sapevo non lo facevo vedere allora Claudia Malaguti ciao Claudia Stefano Pietta il contributo di prima l'abbiamo già letto ancora scorriamo con Erika Spinola complimenti bravissimo Vittorio grazie Erika e ancora avanti Stefano di nuovo grazie mille davvero molto positivo beh vabbè questo adesso sai è talmente piccolo che io purtroppo la miopia io ho una miopia che vedendo da un metro non riesco proprio a leggere se non si ingrandisce allora poi con la sorpresa vi leggo qua le i loro contributi Marzia Martelli sto ascoltando questa bella intervista grazie ad entrambi eccola qui grazie a te Michele un contributo da Michele qual è la differenza tra uno scrittore e un artista che scrive quali sottili o grandi differenze beh io credo che uno scrittore viva in una dimensione parallela solitamente ce l'ho raccontato anche Escolnevo in uno dei suoi ultimi romanzi dove a un certo punto comincia ad avere anche le visioni e non sa più distinguere tra la realtà e l'immaginazione di quello che sta scrivendo quindi sostanzialmente lo scrittore ha un potenziale squilibrato mentre un artista che scrive diciamo non sono un artista quindi magari faccio più difficoltà a comprenderlo però credo che un artista che scrive semplicemente in questo caso utilizzo questo bel termine che ci piace tanto declini una delle sue capacità una delle sue arti anche in forma scritta quindi in realtà ci fa vedere un'altra dimensione della propria arte la completa in qualche modo la integra e quindi penso che possa essere molto interessante leggere lo scritto di un artista per esempio un pittore uno scultore che poi scrive anche un saggio riguardo non solo ciò che ha scritto ma ciò che ha realizzato ma anche mettendolo a paragone con altro con altri artisti beh può essere una lettura differente di quell'opera quindi sicuramente interessante però credo che ci sono proprio due mondi a parte francamente abbiamo Stefano Pietta che ancora ti fa i complimenti per esserti orientata sul sociale grazie Stefano la Vanna che ci dice che siamo molto coinvolgenti grazie Vanna grazie ancora Stefano Pietta che ci rilancia che è una grande riflessione quella che tu hai appena citato e l'ultimo ancora Flavia sei davvero bella dalla tua voce si sente il tuo cuore grazie grande e ancora puro grazie Flavia è troppo gentile ma questo è da dire anche sul tuo libro tutte queste cose traspaiono assolutamente dal tuo libro che consiglio a tutti di leggere non perché deve essere una sviolinata commerciale qui non facciamo di queste cose no l'editore è molto indipendente e quindi se vogliamo fare le storie anche commerciali avremmo scelto anche un altro editore bravissimo noi vive Dio siamo liberi lo facciamo per passione non ci sono finalità commerciali e noi se io intervisto Isabella Schiavone so della qualità di Isabella Schiavone la profondità l'empatia che impone nelle cose che fa e quindi so che arriva un messaggio non filtrato condizionato da chissà cosa ma un messaggio reale dal cuore sincero vero e non sono parole retoriche sono valori che purtroppo in questo periodo spesso facciamo difficoltà a trovare io ti farei un'ultima domanda perché siamo a 55 minuti e 12 secondi e ti farei un'ultima domanda per salutare tutti i nostri spettatori ma che cosa vorresti scrivere ancora su questo libro che cosa non hai scritto che avresti voluto scrivere su questo libro o in generale su questo libro su questo libro su questo libro che hai scritto guarda come ho confidato mentre attendevamo la diretta io dopo che scrivo i miei libri li odio vi detesto quindi non li voglio neanche più leggere aprire e diventa per me una sofferenza a volte anche parlarne quindi niente l'hai sposta niente finito è chiudo e sul prossimo il prossimo progetto che hai invece c'è qualcosa di particolare che mi stai spingendo ho già iniziato a scrivere una storia ambientata tra Parigi e Napoli mi hanno fatto notare curiosamente che ci sono sempre queste due donne narranti come in Luna Vulcano come in Fiori di Mango e Cipicchia evidentemente mi piacciono le storie al femminile però sto avendo appunto parlando dei deliri dello scrittore purtroppo siccome io lavoro tantissimo adesso con la pandemia lavoro anche più di prima quindi diciamo il tempo per scrivere ne ho veramente pochissimo però ogni tanto mi vengono delle illuminazioni tipo adesso potrei far accadere questo e quindi devo andare di corsa a scrivermelo da qualche parte su un tovagliolo cioè non so sul primo pezzo di carta che trovo perché poi il rischio di perdermelo quindi adesso dovrò trovare spero al più presto tempo per poter portare avanti questa storia un messaggio di francesco schiavo te lo leggo perché ti fai complimenti complimenti per la stupenda definizione della giornalista schiavone sull'arte e per il ruolo di volontariato che svolgi questo è e poi c'è un complimento anche a te leggi pure quello Vittorio no no quello lo leggo complimenti anche a Vittorio per cogliere mettendolo sempre a proprio agio buona serata è proprio vero grazie Franco grazie Franco caffè pagato a Franco bravissimo perché insomma caffè pagato a Franco caffè pagato a Franco allora Isabella siamo praticamente agli sgoccioli due minuti e mezzo cosa ci vogliamo dire ci rinviamo l'appuntamento al prossimo libro innanzitutto speriamo di vederci presto sai che questa presentazione noi avremmo voluto farla in presenza d'altronde la presentazione di una vulcano fatta con te era stata bellissima e quindi io spero davvero che ci sia la possibilità di vederci presto e di fare ancora tante cose interessanti insieme io ne sono convinto io ne sono convinto e questo accadrà molto presto anzi sperando ovviamente sempre covid permettendo mi raccomando facciamo sempre attenzione e beh i ricordi insieme che abbiamo vissuto ce ne sono tanti e anche molti artisti che stasera si sono affacciati tra i commenti ce l'hanno fatto rivivere questo è il bello anche non soltanto della diretta ma è il bello anche di quelli che poi alla fine hanno creato intorno a sé attraverso e forse grazie proprio all'arte un insieme di come posso dire sensazioni mediante episodi vita vissuta giornate momenti in cui veramente ci siamo trovati tutti al nostro agio siamo riusciti a esprimere un po' quel pezzettino di intimo che tutti noi abbiamo con grande spontaneità ti ricordo tra l'altro cara Isabella che il giorno 19 alle ore 21 noi ospiteremo e io quindi farò l'intervista Maria Cornelia Giordani che fu con lei che mi ha scritto poco prima della diretta vedi vedi che fu con lei che ti anticipò e quindi presentammo lo stesso giorno quando lanciamo Luna Vulcano presentammo anche il libro e il volume di Maria Cornelia Giordani e quindi vedi questa volta parti in verse tu qualche giorno prima poi toccherà a lei e pertanto e pertanto rilancio ovviamente l'appuntamento a tutti coloro che ci stanno ascoltando per la serata del 19 quando intervisterò Maria Cornelia Giordani sul suo volume sul suo libro ma soprattutto tra l'altro lei è bravissima interessantissima un personaggio curioso quindi io ci sarò sicuramente che parla di natura e dell'energia della natura come estrapolare l'energia dalle piante senza alcuna invasione per le piante quindi anche questo è un percorso molto profondo che ha sviluppato questa nostra amica bene allora Isabella facciamo ti voglio ringraziare ti voglio ringraziare non solo a titolo personale ma anche per tutto il tuo impegno in quello che fai lo fai sempre con consentimento questo veramente arriva e ti ringrazio perché dai sempre un contributo molto positivo a tutti quanti a tutte le persone che hanno la possibilità di starti intorno quello che tu hai sempre fatto per l'arte per i bambini e per gli altri per me è veramente motivo di orgoglio di esserti amica quindi grazie di cuore sai che il sentimento è ricambiato il tuo impegno non soltanto nel sociale ma nella tua professione e anche nella tua vita privata è profondo lo conosciamo noi che ti stiamo intorno ed è per questo che ti abbiamo sempre nel cuore e quindi grazie anche a te per quello che fai sigla e a presto ciao a tutti buona serata ciao 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 Grazie a tutti.